L'essere perfetto Kindred Kale Direi Blitzkank allora ragazzi Ma direi o Blitz o Nautius Blitzkank lo preferisco contro Contro Kindred Nautius lo preferisco contro gli altri 3 Io direi comunque Nautius ragazzi Va bene dai giochiamo Blitzkank dai Siamo il giocatore più forte al mondo di Blitzkank Giochiamo sto cazzo di Blitzkank dai Kale Xerath ok Allora dovremmo tirarli dritti Ma proprio tanto facilmente Cioè così qua io a livello 1 gli flasherei in faccia A livello 1 Kale è molto pochi se ti prende melee Mi sa che è comunque più scarsa di no ragazzi Anche perché Dreven è uno dei campioni più forti a livello 1 del videogioco Che guai Ma io dubbio che possiamo fare 1v2 Ma se è vero Kindred questi qua Brutto ma non grave Cioè mi dà fastidio oggettivamente Usare una pozione Ok Posso romare midi in questo momento Ma che caccio Allora così mi vedono ma Non penso tu sia veramente resuscitato Lo sono Vabbè abbiamo preso anche il flash di Kale Possiamo ricordare abbiamo le swiftness Non so neanche l'ho fatto bene perché ho finito il mano Ah no Tu sei bugile Vabbè direi che abbiamo pulato abbastanza Andiamo a Bottlet Andiamo a Bottlet Quello è il DPS Iniziamo da questo Comunque siamo già in una singola partita Abbiamo Dreven che è gigante Adesso one shot Dreven Guardate che item c'ha Porto giuro Vediamo se c'è Jace Bel cincicci abbiamo fatto Quello one shot ragazzi Io avevo flashato Avevo fatto male Vado a salvarlo Ha fatto il bullo Mentre stavo romando Allora se non erro Kale ci muore So qua Ok Ricolliamo Ripeto non so che cosa buildarmi Inizio che farò Il locket Sto giocando da Dio Adesso non esageriamo Ragazzi Non sono mica Dio io O forse sono Dio Questo è una gran ward ragazzi Scalto del sole Esco Spacco Esco Ciao Sì Cell è completo È pronto per diventare Il padrone dell'universo Io ho il locket Lui muore Io ho giocato Il jungle Mi faccio Potrei farmi lo zek Potrei farmi il frozen Potrei farmi il knightsbow Il knightbow Mi piace molto Anche aria è molto forte 4-0-1 Mica non scherzo Ha flashato Bisogna che muore Jace Muore pure quello Allora però Non so perché Stiamo vincendo Sto guardando molto bene La mia mappa Tutto figo Però Non mi sento al sicuro Che è questo game Non mi sento come se ce l'avessimo Già in mano noi Non so che mi spiego Non so che mi sento come se stia Si Partia verse Pianchen Spreyr Stop it Get some help Stiamo facendo una signorina partita Quindi gay non è gay Sono gay Sono gay Però lascia che ti racconti la mia storia Di quella volta che l'ho scoperto Era ieri sera Nudo Vicino al mio amante Che si chiama Gianmarco O tevles sai l'ho minato io Va sempre in tempo a perdere conto che era E quando il mondo Si fa grabare e muore Sai già che c'è qualcosa che non va nel team di Mik Abbiamo vinto ragazzi Siete felici? Dopamina L'hanno ridotto in 1300 Oh ma Che direi Ma che caccio Baulone mi sapresti dire se le candidature per la riborna sono ancora aperte Non sono aperte Ma che caccio Ma che caccio